Il percorso Wellness che abbiamo intrapreso con Tecnogym è ispirato soprattutto ai driver del benessere e dell'integrazione tra vita privata e vita lavorativa. Il progetto Wellness è partito come un progetto pilota che ha interessato un numero limitato di dipendenti ma che sicuramente poi verrà assunto come un progetto definitivo. Integrare alla vita lavorativa anche la vita personale prendendosi cura di se stessi, avendo dei colloqui con la nutrizionista e Tecnogym ci ha fornito invece il supporto dal punto di vista dell'attività sportiva. Riusciamo con un percorso di 3-4 mesi a dare una mano ai nostri dipendenti per poter riattivarsi per il loro stato di benessere. Abbiamo fatto notare che il peso cominciava a essere un po' importante e allora quando si è fatta questa occasione ho detto perché no. Ne abbiamo un po' parlato tra di noi in ufficio, eravamo un po' titubanti, senza grandi aspettative. Ritengo che questo stile di vita potrò mantenerlo nel tempo, ormai fa parte della mia quotidianità. Coincideva con un momento della mia vita in cui volevo appunto vincere la sedentarietà, prendermi cura di me stessa, iniziare a pensare un po' all'alimentazione, alla salute. Il cambiamento che mi è stato consigliato non è drastico. Ci sono piccole cose che prima non facevo, tipo andare a prendere il caffè nella parte più remota del building oppure fare le scale al posto di prendere l'ascensore, cosa che magari prima non facevo. Non è una cosa che dici faccio fatica, mi devo impegnare due ore al giorno, invece tramite piccoli suggerimenti dati ad hoc si riesce a raggiungere risultati importanti, facendo magari 50 passi in più, 50 di qui, 50 di là, alla fine della giornata sei arrivato a fare magari due o tre chilometri a piedi in più. Io sono molto contenta di aver intrapreso questo programma, addirittura ne parlo con amici. È divertente potersi dare una mano tutti insieme per superare poi quello che è l'esame di quando ci vieni pesato o di quando hai il colloquio con la nutrizionista. Quando vedi che le cose sono venute bene, ti trovi bene anche a livello psicologico, a livello fisico, chiaramente sei felice di quello che hai fatto. Grazie a tutti.